Tutti gli over 40 che ancora non si sono vaccinati con la prima dose anti-covid potranno farlo nei prossimi giorni, semplicemente recandosi senza prenotazioni in una serie di hub individuati dalle ASL della Toscana. Il vaccino utilizzato per tutti sarà AstraZeneca. La regione ha infatti deciso di offrire un'identica opportunità a tutte le fasce d'età fino ad oggi aperte e prenotabili, ovvero per chi ha almeno 40 anni compiuti o da compiere nel 2021. quindi nati sino al 1981. A disposizione ci sono quasi 19.000 dosi nell'arco delle prossime due settimane. Parallelamente la regione sta mettendo a punto, come già annunciato nei giorni scorsi, una nuova modalità last minute per le prime dosi in modo da prenotare sul portale regionale. Nelle 24 ore successive i posti rimasti ogni giorno liberi a causa di eventuali disdette. Nell'ASL la Toscana Sud-Est gli Open Day con AstraZeneca si distribuiranno in sei giornate diverse, 26, 28 e 30 maggio e poi 2, 4 e 6 giugno. Le dosi complessiva e disposizione saranno 7.000-3.000 per la provincia di Arezzo, 2.400 per il Senese e 1.600 per il Grossetano. Le strutture coinvolte in città ad Arezzo sono centro affari e teatro tenda nella provincia retina, invece centro sociale di Bibbiena Stazione, la Berrettini Pancrazi di Cortona e l'Abb di Sansepolcro.